vuole passare lì è passato a un metro ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono Claudia e nel video di oggi come avete già letto dal titolo vi parlerò di un viaggio che ho fatto circa due anni fa e vi porterò con me a Kangaroo Island che forse si pronuncia Kangaroo Island se vogliamo proprio essere precisi comunque l'isola dei canguri non so se voi conoscevate quest'isola io prima di andare in Australia non sapevo nemmeno che esistesse e sono felicissima di aver avuto l'opportunità di andare a visitare questo posto perché è veramente bellissimo per chi non sapesse dove si trova Kangaroo Island vi lascio qui vicino un'immagine di Google Maps dove potete vedere dove si trova esattamente quest'isola è un'isola che si trova al sud dell'Australia ed è fantastica io ci sono stata quando laggiù era inverno quindi quando qui era estate ed è stato veramente fantastico abbiamo trovato un sacco di animali siamo stati lì due o tre giorni e abbiamo viaggiato in macchina abbiamo girato tutta l'isola era deserto perché non c'era nessuno essendo che là era bassa stagione dato che era inverno ma abbiamo veramente fatto un viaggio on the road stupendo dove abbiamo incontrato tantissimi animali ovviamente tipici australiani vi ho già dato un piccolo assaggio di quello che vedrete nel video nell'anticipazione prima di lasciarvi il video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche per ricevere la notifica ogni volta che esce un nuovo video e lasciate un like a questo video se vi piacciono i video di questa tipologia come ad esempio video di viaggi blog e altri video documentari di viaggio adesso vi lascio le immagini e ci vediamo alla fine del video e ci vediamo alla fine del video e ci vediamo alla fine del video ciao 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 ciao